Ciao a tutti amici e benvenuti alla Bianco Auto. Oggi vi presento una vettura che ci è appena arrivata, che è una Volkswagen Golf GTI 230 CV Performance, cambio DSG, colore bianco, dell'anno 2016 con solo 79.000 km. La vettura è veramente in ottime condizioni, un ex dipendente Volkswagen che arriva direttamente dalla Germania. Colore bianco, come vi ho già detto, cerchi in lega da 19, della versione Santiago, pneumatici nuovi, fendi nebbia, fari all'oxeno, big xenon, con le posizioni a led, cruise control attivo e fendi nebbia. Guardate che bella la vettura, è fantastica, guardate che belli questi cerchioni, sono meravigliosi. Vuote la 19, vetri posteriori oscurati, fari posteriori led, abbiamo anche il gancio di traino estraibile, a scomparsa, quindi per chi volesse mettere un portabici o quant'altro, questa vettura è già dotata di gancio traino. Ecco gli interni, guardate che belli. Questi sono molto particolari perché sono fatti in un modo fantastico, cioè stoffa, alcantara e pelle di fuori. Guardate che belli, stupendi. E qua è tutto in pelle ovviamente. Andiamo a vedere la parte posteriore sinistra. Infatti vedete che il retro del sedile è in pelle. Guardate che belli, sono stupendi. Come vedete la vettura è un 2016, ma guardate, è veramente nuova, in ottime condizioni. Guardate. Andiamo a vedere il baule. Dispositivo carico passante. Qui nella sacca c'è il suo gancio traino estraibile. Ora andiamo a vedere la parte posteriore destra. Guardate. Guardate che macchina ci è arrivata. Guardate che roba. E' come nuova sta macchina. Guardate. Stupenda. Stupenda. Ora andiamo a vedere gli accessori di questa vettura. oltre ai cerchi del 19 Santiago. Le gomme sono nuove. Pirelli P0. Andiamo a mettere in moto la vettura. No, 74.000 km. Mi sono sbagliato io. Chiedo vegna. Allora. Specchetti richiudibili elettricamente. Fare automatici. Fendi nebbia, retronebbia. Volkswagen lane assist. Vedete questo qua. Cruise control attivo. Volante multifunzione. Poi qui abbiamo. Partiamo con un bellissimo monitor delle prestazioni. Che vi segna i kilowatt, l'accelerazione in G e i bara. Poi abbiamo il navigatore satellitare. I sensori parcheggio avanti e dietro. La radio ovviamente. Il telefono bluetooth. Poi abbiamo il menu principale della vettura. Vedete? E abbiamo il driving mode selection. Dove possiamo andare a selezionare le nostre modalità di guida. Vedete? Abbiamo eco, normal e sport impostate dalla fabbrica. E individual che possiamo noi andare ad adattare i nostri parametri. Vettura veramente meravigliosa. Qui inoltre c'è il libretto service con tutti i tagliandi timbrati e registrati in Volkswagen. Quindi in qualsiasi concessionaria Volkswagen che voi andate sono registrati. E poi abbiamo questo fantastico cambio DSG. Clima automatico, sedili riscaldati. Specchietto antianabbagliante ovviamente. La vettura noi la consegniamo col tagliando fatto olio e tutti i filtri. Il tagliando del cambio automatico è già stato fatto a 69.000 km ed è registrato sul libretto service. Tre anni di garanzia. Quindi da quando l'acquistate avete tre anni di garanzia che è valida in tutta Italia e in tutta Europa. Compreso tre anni di assistenza stradale. Il tagliando fatto, come vi ho detto, doppi chiavi, tappetini in gomma. Lucidatura degli esterni e sanificazione degli interni. Guardate questa vettura che è veramente pari al nuovo. Guardate che roba. Guardate. Sembra che abbia 5.000 km. Pazzesco. La vettura la trovate da Bianco Auto a Motta di Costiglione d'Asti. Veniteci a trovare, venitela a vedere perché è veramente una bella, bellissima vettura. Ciao a tutti amici e alla prossima.